buona giornata da nincos che ho detto come possiamo osservare dalla grafica delle isobare nel corso di martedì un campo di alta pressione si estenderà dal mediterraneo centrale verso i balcani un po tutta l'europa orientale ancora invece circolazioni di bassa pressione più ad ovest e proprio nel corso di martedì mercoledì un lieve cedimento dell'alta pressione atteso al nord con il transito di parecchia nuvolosità ma scarsi fenomeni andiamo a vedere quindi nel dettaglio la nuvolosità con queste nubi martedì in giornata nubi alte velature al centro sud assolutamente innocue nubi un po più compatte al nord ovest invece con qualche debole fenomeno dal pomeriggio nello zoom mediterraneo difatti notiamo tutte queste perturbazioni precipitazioni che affollano l'europa occidentale e a partire dal pomeriggio deboli fenomeni sulle alpi occidentali nevosi a quote medio alte qualche piovigine anche tra liguria alta toscana lombardia e piemonte comunque nulla di che però nel complesso possiamo osservare una giornata grigia sulle regioni settentrionali la liguria l'alta toscana altrove maggior soleggiamento e dopo una notata fredda al sud raggiungeremo diffusamente anche i 14 17 gradi ulteriori dettagli e approfondimenti come sempre scaricando l'app di trevi meteo grazie a tutti grazie a tutti